Nella parte precedente eravamo rimasti alla straziante morte di Ace Pugno di Fuoco, ucciso dall'ammiraglio di magma e schioppato fra le braccia del fratello Rufy, rimasto tanto sconvolto dall'accaduto da perdere i sensi per lo shock. Il Caino a Caino allora ne approfitta per tentare di finirlo, ma viene fermato da Marco la Fenice e poi da un misteriosamente ancora vivo Barba Bianca, che gli schiaccia la testa con un'onda d'urto a sorpresa. E mentre Jimbe porta via di corsa il ragazzo svenuto, i due colossi lottano e Barba Bianca sembra avere la meglio sull'ammiraglio. Fa anche rima, ma contro il magma non si può nulla e alla fine pure lui si ritroverà con un gran bruciore di stomaco e nessun gaviscono biochetasi per curarlo, anche perché stavolta non è stata la peperonata con le cozze. Nonostante ciò Barba Bianca riuscirà a colpire Caino con una tale potenza da spaccare a metà l'isola, far precipitare lo stronzo nel cratere e poi combattere altre decine di soldati ricicciati fuori non si sa da dove. Eh, la Madonna! Discretissima vitalità, questo vecchio Baffo Bianco. Invece Sengoku lo scintillante Buddha d'oro in reggiseno? Niente? Si è visto per 15 secondi e poi non ha fatto più nulla. Andiamo bene! Come se non bastasse, riciccia fuori anche Barba Nera, stavolta con la ciurma al completo e l'aggiunta di alcuni nuovi membri. Un cornuto Baffone, un gigante Ebete, Pippo Franco, Vladimir Luxuria e il già visto Gino Bramieri. A quanto pare il suo unico scopo era liberare certi pericolosi detenuti di Impel Down e ovviamente non gliene fregava un tubo di essere nella flotta dei sette per servire il governo. Fra l'altro lui e Barba Bianca hanno un conto in sospeso e non solo per l'evidente contrasto cromatico delle loro rispettive barbe, ma perché Marshall D. Teach è un infido stronzo assassino di compagni e quindi i due si affrontano, più parlando che combattendo in verità. E ancora una volta, anche se Barba Bianca sembra avere la meglio dal punto di vista fisico, finirà poi colpito, massacrato e crivellato di colpi dall'avversario e da tutta la sua ciurma. Ma prima di schiattare in piedi con fierezza, grida a tutti che One Piece esiste davvero. Barba Nera a questo punto si fotte il potere che era di Barba Bianca, anche se non si capisce come, perché non ce lo fanno vedere i bastardi. In pratica diventa l'unico uomo in grado di padroneggiare contemporaneamente i rispettivi poteri di due frutti del diavolo, Dark Dark e Gura Gura. La gravità del buio che assorbe e annienta ogni cosa e la potenza delle onde d'urto capaci di scatenare terremoti in grado di scuotere la terra sono entrambi nelle sue luride e ingioiellate mani e quindi ora Barba Nera è il pirata più forte del mondo. E tronfio come non mai con quel sorriso sdentato e quell'alito tipo Fogna di Calcutta annuncia l'inizio della sua era in mondo visione terrorizzando tutti i cittadini del mondo. Ma scusa, ma di che cosa si preoccupano? In questo anime non si è quasi mai visto un pirata torcere un capello a un civile. Si massacrano tutti fra di loro. Boh, ma i suoi sogni di gloria vengono ostacolati dal grande ammiraglio Sengoku, il ritorno del figlio di Buddhan, cioè il Buddone d'oro. Intanto la corsa di Jinbe e degli altri viene fermata dal re di vivo ammiraglio Akaino e giù ancora citazioni a Terminator 2. Se ne occuperanno Ivankov e il suo braccio destro barra amico barra compagno barra non ho capito mani di forbice. E tutti ci chiediamo come. Cioè il nemico è un invulnerabile che controlla il magma, sti due invece il massimo che possono fare è iniettare ormoni e tagliare la roba con delle forbici giganti. Cioè voglio dire. Infatti poco tempo dopo Cappellino raggiunge Jinbe che sta scappando con Rufi e gli infligge una bella kamehameha di magma nel torace, ferendo anche il ragazzo. Per loro sembrerebbe ormai scoccata l'ultima ora. Ma arriva Crocodile che distrae l'ammiraglio e spedisce gli amici lontano da lì con un tornado di sabbia. Buggy Clown porta quindi in salvo Rufi sul sottomarino, ovviamente giallo, boh citazione ai Beatles, di Trafalgar Law. Giunto sul posto appositamente sembrerebbe, perché lui oltre che un sosia di Valentino Rossi, uno spadaccino e un utilizzatore di un misterioso frutto del diavolo, è anche un dottore. Intanto lo scontro fra Sengoku e Barba Nera continua, e siccome il pirata non riesce a prevalere, scatena la forza di entrambi i frutti, causando un caos incredibile. Ma la guerra a Marineford, che ormai è ridotta a un cumulo di macerie, continua. Nel frattempo, quell'essere inutile di Kobe, sconvolto dagli orrori della guerra, corre dall'ammiraglio a Kaino per scongiurarlo di porre fine al conflitto e alle sofferenze di tutti. Ma il superiore è troppo ligio al dovere e anche troppo stronzo, quindi tenta di ucciderlo. Altro che uomo di magma, questo è proprio un uomo di smegma. Colpo di scena, il caga sotto coi capelli rosa, verrà salvato dal coraggioso coi capelli rossi. Shanks, arrivato tempestivamente senza che nessuno se ne fosse accorto, e forse perfino Oda si era dimenticato di lui, visto che non si vedeva più da 270 episodi circa. Comunque è venuto anche lui con lo scopo di porre fine alla guerra. Incredibilmente, bastano soltanto le sue parole, per far cessare ogni conflitto e ostilità fra le due parti, perché lui è uno dei quattro imperatori. Non si sa imperatori di che cosa. Comunque è uno di questi quattro. E dopo una lunga serie di piagnistei, con tanto di lacrimoni a fiumi e moccio che scende loro anche dal naso fino in bocca, non oso infatti pensare a quanti cacchio di personaggi si siano finora mangiati le proprie caccole liquide, e dopo tutto sto casino, sti morti, sta distruzione totale, il grande ammiraglio Sengoku acconsente alla richiesta di far seppellire degnamente con onore i due pirati Barba Bianca ed Ace, assumendosene la responsabilità. In che senso? Devo essere un demente! Quindi, fra i soldati della marina e in tutto il mondo civilizzato, si festeggia per la fine della guerra e la vittoria della marina, anche se a giudicare dai risultati non so quanto si possa chiamare vittoria. Ci hanno rimesso un sacco di soldati e il quartier generale nei pressi della linea rossa e di Marigioa, facendo una figura abbastanza barbina, senza poi contare in peldaun. Tant'è vero che il governo mondiale vuole insabbiare ciò che è successo alla prigione. E mentre Rufi sta lottando per la vita, viene introdotto a quanto pare un nuovo personaggio, che sta lasciando dietro di sé una scia di morte e distruzione, oltre che di puzza di ascelle e di barba mai lavata. Un certo Barba Bruna. E devo dire che ne hanno di fantasia per i nomi, eh? E dopo che non ho ben capito in quali rapporti è quello psico-sociopatico di Do Flamingo con il governo, ma non è tutta colpa mia, è che non ti dicono mai un cazzo, e dopo un episodio speciale crossover che non c'entra niente con Torrico, che non ho nemmeno guardato, ma lo guarderò poi più avanti, e magari ci farò anche qualcosa, dopo che a Kobe è stata diagnosticata una non ancora ben precisata abilità relativa all'ambizione, risvegliatasi in lui a causa della battaglia, così a caso, dopo le losche trame di Kid che ha incomprensibilmente cambiato idea su Rufi, dopo che Barba Bruna sta andando in giro a rompere i maroni un po' a tutti per far parlare di sé, ma a questo tizio di cui non mi ricordo il nome non potrebbe fottergliene di meno, dopo perfino una comparsata del bellissimo Duval, che intende proteggere a tutti i costi la nave di Rufi a Sabaudi, e dopo una piccolissima, si fa per dire, saga abbastanza filler ma di approfondimento, di ben 12 episodi sul passato fanciullesco di Ace e Rufi, che ci racconta della loro travagliata amicizia, e ci spiega meglio chi sia un loro vecchio amico di nome Sabo, anche se noi ne avremmo fatto certamente a meno, ci spostiamo nuovamente su Amazon Lily, dove è stato trasportato Rufi, che sì, è parzialmente guarito, ma è anche andato fuori di testa, e non fa altro che frignare disperato, pertanto era quasi meglio la mini saga di episodi semi inutili, ci pensa quindi Jimbe a dargli una bella sgrullata, così Rufi si ricorda dei suoi amici della ciurma e della voglia di rincontrarli, ciò comunque non gli consentirà affatto di interrompere il piagnisteo, questo ci tenevo a precisarlo, ma appunto che fine hanno fatto i suoi amici? Brooke se ne sta bello tranquillo a scrivere musica, ma viene poi rapito da dei tizi appartenenti alla razza dei Braccialunghe, Chopper finirà per guarire dalle loro malattie gli utenti medi di TikTok e Instagram, e si accorderà con i mega uccellacci giganti, per far sì che abbiano ancora accesso alle medicine per il cervello, Nami è finita a zappare la terra e sembra che questo non faccia troppo bene al suo seno, che pare piuttosto ridimensionato rispetto a com'era, per contraltare Usop invece è diventato un obeso, Sanji è diventato un travestito effemminato, ma poi per fortuna si ripiglia e avrà anche modo di incontrarsi con Emporio Ivankov, che ricordiamolo è re dell'isola dei trasformati dove lui è capitato, Nico Robin ha un modo di vestire decisamente inadeguato alla situazione, visto che nevica, e infatti un tizio se ne accorge e giustamente la copre, sì, le copre le spalle, che erano già coperte, le tette invece le lascia in bella mostra, mica è scemo, Zoro è finito sul pianeta delle scimmie, che poi invece si scoprirà essere la casa dello spadaccino Dracul Mihawk, oppure di Tim Burton, non lo so, c'è anche Perona che continua a rompere i coglioni, e l'unico che sembrerebbe stare alla grande è Frankie, e la cosa mi sorprende perché inizialmente sembrava quello messo peggio, anche se poi in effetti parrebbe essere rimasto coinvolto in una tremenda esplosione, peraltro da lui causata, nel laboratorio di Vegapunk. Allora sei deficiente! E ognuno a modo suo verranno tutti a sapere che Rufy ha perso suo fratello, intanto su Amazon Lily arriva anche Rayleigh, venuto a nuoto, e vabbè, per raggiungere Rufy e chiedegli di allenarsi presso di lui, ma prima Rufy dovrà tornare a Marineford. E perché mai? Ma è ovvio! Per gettare dei fiori nel cratere rimasto dopo la guerra in memoria dei caduti in battaglia, e farsi quindi fotografare con un particolare tatuaggio, che in realtà è un messaggio segreto per i membri della sua ciurma. Si dovranno rincontrare tutti a Sabaudi fra due anni! Eh la madonna! Tempo che ognuno dovrà passare ad allenarsi per diventare migliore, altrimenti non saranno abbastanza forti per affrontare il nuovo mondo. Rufy li passerà con Rayleigh, su un'isola dove le stagioni cambiano ogni settimana, ad allenarsi per sviluppare il controllo e la potenza dell'ambizione. Per i puristi, Lucky. Scopriamo che esistono ben tre tipi di ambizione, quella della percezione, che consente di percepire i nemici anche fuori dalla portata visiva, e prevedere in anticipo le loro mosse, quella dell'armatura, grazie alla quale si possono respingere gli attacchi, fortificare la propria difesa, o potenziare i propri colpi offensivi, e può essere anche usata per potenziare le armi. È la tecnica fondamentale per affrontare chiunque abbia mangiato i frutti del diavolo di tipo rogia, poiché grazie all'ambizione è possibile colpire il loro corpo intangibile e apparentemente invulnerabile. Infine, il terzo tipo di ambizione è chiamata del Re Conquistatore, grazie alla quale si possono far perdere i sensi a tutti quelli che non hanno abbastanza forza mentale o di volontà. È il tipo più raro. Al contrario degli altri, non si può sviluppare con duri allenamenti, ma è un talento innato. Solo in pochi al mondo ce l'hanno, e come già ormai sappiamo, Rufi è uno di quei pochi. Bel colpo per un elasticoglione. Fra l'altro, anche se il ragazzo lo ignora, parrebbe che Rayleigh sia suo zio. Dopodiché avremo il famoso time skip, cioè il salto temporale in avanti di ben due anni, ma temo che questo dovremo vederlo nella prossima parte. Mando chiaramente un saluto a tutti i miei patrons e ci vediamo presto. Ciao!